Giornata inaugurale ieri della prima edizione del Master di secondo livello, analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il Master è finalizzato a fornire contenuti conoscitivi, strumenti metodologici e risorse operative utile alla comprensione critica dei fenomeni criminali complessi legati alle dinamiche di infiltrazione, espansione e radicamento delle organizzazioni mafiosi a livello territoriale, dei mercati e delle attività illecite ad essere riconducibili ad un maggior impatto sul tessuto sociale. Il seminario realizzato in collaborazione con Libera ha visto in giornata gli interventi tra gli altri di Massimo Marrelli, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, del professor Marco Musella, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e del professor Tullio D'Apponte, direttore del Centro Interuniversitario Campano Lifelong Learning. Al corso ha partecipato anche Nando dalla Chiesa dell'Università degli Studi di Milano. Grazie. Grazie. Grazie.